A mano a mano, quando si comprende una verità, commento, si comprende una verità quando si è quella verità. Chi è ancora esterno a quella verità ne avrà una visione soggettiva e sarà incapace di comprenderla nella sua totalità. A mano a mano che si raggiungono stati di coscienza più elevati, la percezione della verità si amplia. Il mistico durante l'estasi, che è uno stato di coscienza temporaneamente molto dilatato, si potrebbe dire esploso, ha una visione della verità che è la meno soggettiva rispetto al periodo evolutivo che egli frequenta abitualmente.